Buongiorno, sono Beatrice Scrocchi dell'azienda agricola Scrocchi di Piacenza. Produciamo un pomodoro da industria e abbiamo quattro macchine checchiamagli. L'ultima comprata è quella alle mie spalle, che è stata costata quest'anno, che ha un sistema maggiore di pressione sulle ruote. Ringraziamo Cacchiamagli per la disponibilità e per averci fornito una macchina performante. Grazie.